Il nuovo hub vaccinale qui nei locali dell'ex bullying di Porto d'Ascoli è scaduto il 23 novembre il bando per l'individuazione del nuovo hub vaccinale visto che dove attualmente viene somministrato il vaccino, ossia l'agroalimentare, è risultato inidoneo e l'unica manifestazione di interesse è stata proprio questa per il locale qui sito in via Pasubbio. Nei prossimi giorni l'ingegnere Giovanni Ferrari e il direttore del distretto Maria Teresa Nespeca effettueranno i sopralluoghi per vedere effettivamente se il locale è idoneo a supportare la somministrazione della terza dose. Centro vaccinale, novità su una possibile nuove sede? Sì, mi auguro proprio di sì perché noi vogliamo che siano tanti e già ieri che abbiamo sfiorato i 600 vaccini abbiamo avuto un po' difficoltà nel dare la migliore accoglienza che i cittadini meritano. La dottoressa Maria Teresa Nespeca, direttore del distretto sanitario di San Benedetto del Tronto, ha fatto anche un bilancio sui numeri realizzati dal tour del camper vaccinale del RASUR Area Vasta 5, nei quartieri di San Benedetto del Tronto. Oltre 500, con una media di 60 giornalieri, i test effettuati nei nuovi giorni dal 12 al 21 novembre, in cui la struttura mobile è stata incittata. Durante le varie tappe, il camper era affiancato da un gazebo montato dai volontari del gruppo comunale di protezione civile. Tante le persone, anche non residenti in città, che si sono recate nei punti prestabiliti per sottoporsi al vaccino. Tra questi, anche chi ha effettuato la prima dose. Soddisfazione per la perfetta riuscita dell'iniziativa. Sicuramente abbiamo fatto otto tappe, in media abbiamo superato anche i 60 vaccinazioni. Solo un giorno ne abbiamo fatti di meno, ma c'era un tempo che non lo permetteva l'accesso. Ma anche lì ne sono state fatte abbastanza. Non l'avevo fatto prima, perché c'era una sede vaccinale molto ampia, molto accogliente, al centro della città. Quindi ho preferito rivolgermi alle sedi periferiche. Oggi che in qualche modo il centro vaccinale è stato decentrato, mi è sembrato giusto dare l'attenzione ai quartieri della città di San Benedetto.